un saluto a tutti gli ascoltatori di news 24 del vostro Francesco Atalanta e Beltrani eccoci insieme per una nuova puntata di tutto il calcio 24 la trasmissione che vi guida sui campi delle nostre province dell'Alto Piemonte abbonati a soli 9,90 euro all'anno autosalone tedeschi concessionari a Suzuki per il VCO a piedi mulera